Scusa, sei tu che vai a Timing Jazz? Sì, sai. L'invito di tutti i ragazzi di Timing Jazz è, primo, venire numerosi a Berchida, secondo, condividere e dividere le macchine, perché è più bello, perché si fanno degli incontri, perché si parla, si parla di quello che si è sentito, perché si rispetta la filosofia di Timing Jazz e soprattutto si rispetta l'ambiente. Grazie a tutti.